Buono Arezzo, ragazzi, bambini, ragazze, ragazzini, nonno, papà, mamma, nonna, tutto, tutta la persona bella di là in Arezzo e voglio iniziare prima di fare un grazie, mille grazie a tutte le persone che hanno fatto moltissima forza per me per tornare a casa, sono molto tranquillo, molto bene, ieri ho guardato al medico, al dottore mi ha detto che sta tutto bene, che questo è più lungo, però va bene, quindi sono felice, felice per voi anche e buono, adesso mi piacerebbe fare un mandare di là, una forza, perché ho guardato che di là in Italia sta più difficile la situazione e buono è il momento di adesso io mandare di là tutta la forza che io posso tenere adesso, di nuovo se la mando a voi, che sia una persona magnifica, tutto, sono molto agradecido per tutto il momento vivido di là, tutta la partita, vento, novento, tutto il momento e sono molto felice per questa vita che ho trovato in Italia, in Arezzo specificamente e buono, mi piacerebbe mandarle un saluto a tutti e desiderle a tutta la persona che si cuidano, che questo è un momento di stare in famiglia, unici, unici e buono, lo più importante adesso è mangiare bene, niente del supermarket, niente, tutto vegetale, molto pulisce prima e domande dove è e lo meglio adesso è mangiare bene per stare bene emozionalmente, fisicamente e anche in la vita, tutto vegetale, frutta, è molto importante per tutti voi e di buono, mando un saluto grande e tutta la forza che posso tenere io, se la mando a voi, sono molto felice per tutto grazie mille, grazie mille, per tutto l'abbraccio, tutto la sonrida, tutto il llanto, tutto, 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 tutto e io lo porto sempre qua nel cuore e sono contento di tenere una famiglia di là in Arezzo che arriva, ora si, 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 si! per l'iniziano per competire con voi